Ragazza o com'è? No, 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 beh, a parte che ha vinto un sacco di Grammy quest'anno, ma poi ha un modo tutto suo, ha davvero una sua personalità, non lo devo dire io i risultati. No, mi ha fatto ridere durante la serata, c'era l'intervistato a Salmayek e ha detto all'intervistatore, tipo, ah, Billie Eilish, mia figlia, me la fece vedere sul cellulare, tipo, cinque anni fa, quattro anni fa, nessuno la conosceva e lei diceva, vedi mamma, questo... E nessuno gli ha detto, sc... Sì, sì, infatti l'intervistatore non era preparato, quindi aveva fatto ridere questa cosa, quando la gente dice, ah, io Bong Joon-ho lo conosco dal 2001, guardate, e vabbè, e allora? Qui, insomma, Oscar clamorosi, ho citato subito Bong Joon-ho, Bong Joon-ho, perché è il nome più sbagliato pronunciato peggio di questo. Ma secondo me in quest'edizione degli Oscar ce ne sarà anche un altro e ne parleremo dopo quando arriveremo a parlare della colonna sonora, visto che abbiamo ospite Alessandro De Rosa. Esatto, Alessandro che, insomma, ci racconterà un po' di cose... Preparatissimo, io sono preparatissimo. Sì, hai visto tutti, bravo, bravo. Ma prima di iniziare, prima di infilarci dentro questo lunghissimo podcast Oscar-rifico, è il momento di parlare del nostro sponsor Infinity, il servizio streaming perfetto per i cinefili, con un catalogo di migliaia di film e serie TV disponibili sempre e su tutti i device. In più ogni settimana, come vi dico sempre, c'è in regalo un film premiere, che è una delle ultime novità, in anteprima per sette giorni. E questa settimana, ragazzi, dal 14 al 20 febbraio, è il turno di... Blinded by the Light. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. E' uno dei film che mi è piaciuto di più di quest'anno. Ho pianto come un vitello, ma mi piace piangere quando guardo un film. A te Ale piace piangere quando guardo un film? Beh, sì, ho capito da un po', devo dire la verità, forse... Tu non l'hai visto Blinded by the Light? No, non l'ho visto. Tu sei un grande amante come me di Bruce Springsteen, quindi guardatelo. E piangi. Mi aveva molto commosso un documentario fatto su Bruce Springsteen, che sulla carta mi avrei dato due soldi, a dire la verità. Era fatto da... cioè i fan che guardavano Bruce Springsteen, che raccontavano Bruce Springsteen. Molto interessante, molto interessante. Mi ricordo come si chiama, qualche anno fa. Beh, c'è qualcosa. Molto commovente comunque. Perché comunque crea un ponte emotivo, no, col fan, perché noi siamo fan, no? Cioè, se chiunque sia stato una volta a un concerto di Bruce Springsteen, ha creato... cioè sa cos'è quell'emozione, no? E questo film racconta un ragazzino pakistano nelle periferie di Londra che scopre Bruce Springsteen negli anni, mi pare, 80. No, 90 anni, 90 mi pare. E quindi crea tutto questo suo percorso di crescita emotivo, eccetera, legato alla passione che scopre Bruce Springsteen, eccetera. È veramente un film eccezionale. E la cosa più figa è che noi di Cinefax vi regaliamo ben due mesi gratis di Infinity, se vi scrivete usando il codice di sconto Cinefax, quindi potresti usarlo anche tu e vederti Vended by the Light questa settimana. Non profiterò. Tanto comunque potete sempre disdire quando volete e, insomma, provatelo e fatevi del bene. Ma è il momento delle domandone. Questa volta, questo puntato, devo andare spedito perché quando arriveremo agli Oscar sarà tipo il delirio, vero, Teo? Che ci abbiamo compreso. Teo, ma cosa stai facendo? Sto facendo la live su Instagram. Sì, ma ti distraevo? Per gli omuncoli e le donnuncole. Basta, io mi sono rotto le scatole. No, non devi dire questa cosa. No, mi sono rotto il cazzo di questo. Sei una merda. Non è possibile, cioè, non sei concentrato, non sei sul pezzo. Quali sono le domandone, eh? Le domandone te le ho dette prima, Paolo. Esatto, adesso io volevo vedere se le sei sul pezzo. La prima domandona che ci arriva riguarda proprio gli Oscar. Ma qua, ma chissà perché? Non ho capito come è. Gli Oscar di quest'anno, eh? Ma pazzesco. Che ne pensate del vestito della Portman agli Oscar? Ce la fa Emanue de Montesio o Monteccio? Emanue da Monteccio. O da Monteccio. Da Monteccio. Allora, uno direbbe perché ci fate la domanda sui vestiti? Me lo chiedo anch'io. Non siamo, certo, la Denise Negri di Sky, che di solito la chiamano per commentare il red carpet, o Ildo Diamanti, che era, no, Ilvo Diamanti. Ido. Ido Diamanti. Diamanti. Ma chi era poi? E non lo so, e viene, lui si definisce fashionista, che può voler dire tutto come anche assolutamente nulla, quindi vabbè, ma in realtà il vestito della Portman ce l'ava un segreto, secondo me di classe e molto figo, nel senso che sul, si chiama Bavero, anche per gli abiti femminili, ma... Il Bevero. che non avevano ricevuto la nomination all'Oscar come miglior regista. Quindi tutte le registe del mondo? Non lo so quanti erano in realtà, bisognerebbe approfondire questa cosa. Io non l'ho capita questa cosa qui. Ma è un... lo sai che la cara... No, forse dei film nominati ma che non avevano avuto la nomination come miglior regia. Dici? Secondo me sì, perché la polemica era stata questa, cioè... Ah beh, si può anche darsi. Tipo Little Women, nominato come miglior film, ma Greta Gerwig non è stata nominata come miglior regista. E non solo lei. Quindi c'era un po' questa dieta di pace. Perché avete nominato il film ma non avete nominato nessuna regista? Perché tutti i registi nominati erano tutti uomini quest'anno. Però, non lo so, è andata così. L'anno prossimo saranno tutte donne. È una questione... Beh, la compositrice che ha vinto la musica, la miglior musica, è una donna. Ed è anche la prima donna che vince da sola l'Oscar per la miglior colonna sonora. È vero, infatti... Gusanatos Tish, Gusanatos Tish. No, Ildur... Sarebbe Ildur Gugnadottir. Ma... C'è un finale strano perché... Esattamente, perché c'è... Io ho detto Gusanatos Tish o Gusanatos Tish, però non so se... Sono corretti. Ci dovrebbe essere un islandese che ce lo dice. Perché il nome è islandese e io, quando sono andato in Islanda, ho scoperto una cosa veramente buffa. Nel senso che sono talmente pochi gli islandesi che non hanno il cognome. Ah, come... Loro non hanno i cognomi. Passa il nome. Quando nasce un bambino o una bambina, se... Allora, mettiamo il caso. Tu, Paolo, hai un figlio. Lo chiami Marco. Quel bambino si chiamerà Marco Paolo Son. Cioè Marco di Paolo. Esatto. Se tu avessi una bambina e la chiami Marcella, la bambina si chiamerebbe Marcella Paolo Dottir. Perché prendono il nome del padre e, se sei donna, ci aggiungono Dottir e, se sei uomo, ci aggiungono Son. E questa cosa mi ha flashato. Se facessimo così anche noi... Una roba strana. Io sarei parente di Vincent Donofrio. Perché ti chiameresti Onofrioson? No, mio padre si chiama Onofrio, quindi sarei Donofrio anch'io. Eh no? Saresti Paolo Onofrioson? No, è lì, ma da noi diciamo... Ah, vabbè, adesso, non è che puoi cambiare le regole degli islandesi, scusami. Così. Vabbè. Molto carina questa notizia. Ecco, vabbè, niente, era un angolo del... Del cazzismo becero proprio. Eh, questa era una domanda tecnica. Dopo Fiorello al Festival di Sanremo. È vero, ma perché non facciamo lo special su Festival di Sanremo? Perché nella stessa settimana Festival di Sanremo e Oscar? Questa è una roba... Allora, quest'anno hanno fatto la notte degli Oscar più early di sempre. Cioè, non erano mai stati... Almeno di sempre, sicuramente negli ultimi 40 anni. Non erano mai stati così presto gli Oscar. Non ho capito perché. Non si è spiegato a nessuno. Impazienza. Tra l'altro, infatti, anche i Rezzi Awards, i peggiori film, sono stati presi in contropiede perché loro di solito fanno... Fanno il giorno prima, annunciano i vincitori dei peggiori. Si vede che quest'anno erano organizzati male e hanno annunciato le nomination due giorni prima e i vincitori gli dicono tipo il primo aprile, una roba che... Ma come? Che non ha senso. Poveri. Comunque io faccio sempre questo parare... Parare con una parentesi, abbiamo citato Sanremo, così lo chiudiamo e lo parliamo di Sanremo. Ma perché stiamo parlando di Sanremo? No, aspetta, ora ti faccio dire come lo ricordo. Sanremo, a livello di produzione TV, è la produzione TV più importante e prestigiosa d'Italia, quindi anche più curata a livello di produzione. Gli Oscar è la diretta americana non sportiva, perché tiriamo fuori il Super Bowl che tra l'altro c'è stato l'altra settimana. Esattamente. Tutti nello stesso periodo. Molto curata. Però a livello estetico, a parte che Sanremo, essendo spettacolo, musica è più giustificato che sia più colorato, più fantasioso, eccetera. Però a livello produttivo è molto molto bello, mentre gli Oscar sono più semplici, più minimal. Ma quest'anno mi sono reso conto di una coppa, già te lo dico perché facendo il mestiere del cameraman, probabilmente te ne avrei già accorto da un sacco di tempo, ma il teatro Aristone è piccolissimo. Certo. Il teatro Aristone è un buco, io quando ci sono stato da vivo mi è venuto da ridere. Perché veramente piccole. Allora, attenzione, io dovrei, vabbè, ma sì, ma lo dico, chi se ne fa tanto lo conosco anche. Stefano Vicario era il regista di quest'anno degli Oscar, io ci ho lavorato qualche anno fa per fare l'area di Sanremo, scusami, di Sanremo, esatto. Ci ho lavorato qualche anno fa quando hanno fatto la nuova edizione del Rischiatutto con Fazio. Non so che cosa gli sia venuto in mente quest'anno, ma secondo me la regia di Sanremo di quest'anno era veramente pessima. Sì, anche a me non è perfetto, però c'erano degli stacchi un po'... No, allora, i musicali mi sembravano veramente randomici, cioè non vedevo le ore di prove alle spalle per creare una sorta di videoclip del pezzo. C'era questa stedicam lanciata sul palco che andava a due centimetri dai nasi dei cantanti facendogli anche ombra in faccia, che a un certo punto forse nella penultima serata ho visto anche tipo tre secondi di nuca fuori fuoco di Elodie rimasta in onda, che uno dice staccala, cioè fa schifo con l'inquadratura. Ma al di là della cosa visiva, è anche fastidioso per i cantanti avere una stedi che ti gira intorno a mezzo metro di distanza, che due coglioni! Però vabbè, al di là di quello, al contrario invece ho visto una cura in vera e conda nella regia della notte degli Oscar, cioè essendo reduce dalle serate di Sanremo, poi domenica notte mi sono visto gli Oscar e ho detto ok, è così che si riprende un evento. Gli anni scorsi io mi ricordo che le regie di Duccio Forzano, con il quale ho lavorato cinque anni da Fazio, perché tempo che fa, erano un'altra cosa, ma perché Duccio è uno che prova il millimetro, anche le luci erano pensate per ogni pezzo, cioè lui costruiva effettivamente l'identità del pezzo che poi veniva riproposto nelle varie serate, e quindi era quella roba lì. Sì è vero, si ripeteva sempre. Mentre una volta c'era quasi una regola televisiva a Sanremo, nel senso che ogni canzone doveva essere ripresa nello stesso modo, per non avvantaggiare o svantaggiare un artista piuttosto da un altro, quindi se gli davi cinque primi piani da venti secondi l'uno, dovevi farlo per tutti i cantanti. Questa cosa si è persa un po' negli anni, ma quest'anno era veramente, insomma, non proprio riuscitissima. Ma io direi anche di chiuderla alla parentesi Sanremo. Telefato. Comunque. L'angelo Telefato. Due tipi di regia, tra Oscar e Sanremo. Ma torniamo dove, Paolo? Torniamo alla seconda domandona. No, alla prima, quella del vestito, l'abbiamo usata. Seconda domandona. Qual è l'importanza della colonna sonale in un film? Questa domanda ce l'hanno fatta sia Antonio Petta che Alessandro Grassi, e questa è la tipica domanda a cui di solito non rispondiamo. Ma? Ma. Avendo. Abbiamo ospite, comunque, uno del semi in tende, caro Alessandro, sei tu? Pesce, il pescerino qui. Sì, quello lì è Joe Pesce. E lui? No, no, questo è un pesce. Non dovete sapere che Alessandro è stato accanto all'acquario. E qui, lo vedete nella diretta. Meno male che i pesci non abbaiano. Qual è l'importanza della domanda sonale in un film? Questa è una domanda ipergenerica. Infatti è molto generica e molto difficile da rispondere. Devo dare una risposta? No. Devono. No, vai. Posso provare a dire, ma può essere molto importante se si sente, se è utilizzato in un certo modo, e può essere anche inutile se è utilizzato in un altro modo. Non è detto che un buon film debba avere una colonna sonora, perché poi la colonna sonora è un fatto più complesso. Questo bisogna sempre dirlo, no? Lì com'è la domanda? Dice, qual è l'importanza? Però in realtà c'è anche un'altra domanda che si collega e possiamo espandere questo concetto, no? L'altra domanda che ci fa Stephen 91 è, qual è il film con le migliori colonna sonore di sempre? Ed è una domanda ipergenerica anche questa. Però mi viene da pensare una cosa di cui discutemmo tanto tempo fa. se noti, cioè ora ti faccio questa domanda, tra le migliori colonna sonore di sempre in film, ci sono spesso film che lasciano molto spazio alla musica, cioè gli danno i suoi tempi, in cui la musica non è solo un tappeto ma può venire fuori, no? Mi viene in mente Sergio Leone, piuttosto che tanti altri, ma anche secondo me le musiche di candidate a questo Oscar, no? Avevano lo spazio di svilupparsi, no? Quindi dipende anche dal regista questo risultato. L'importanza e la qualità. Sì, l'importanza e la qualità. Poi bisogna, cioè intanto poi come si adopera la musica, no? Cioè lo spazio che si dà, il volume che si dà, il senso che dai alla musica. Perché non hai detto che tu una scena, ad esempio, di un combattimento, no? Con il finale di Cotto e Frullato, lì si sarebbe potuto andare all'unisono con l'immagine, no? Invece alcuni compositori, io in quel caso ho scelto così, vai proprio contro quello che è l'immagine. Il Morricone l'ha fatto spessissimo, no? Contrapunto. Sì, è una specie di contrapunto. Invece di proporre, no? Uno stacco serrato di quelle che sono le ritmi, che quindi andare con l'immagine, il pugno, il calcio e via dicendo, invece vai con, ad esempio, una sezione d'archi distesa, che non succede niente. E questa cosa dà un forte contrasto. Una cosa la utilizzano anche nelle serie, ho visto molto spesso, fanno un omicidio incredibile con una canzone anni 60, no? Che invita invece alla gioia e alla spensieratezza. È un contrasto emotivo, un contrasto che è possibile, no? Che poi lì si carica anche di un contesto. Però, al di là di questo, volevo dire una cosa. Lì dicono colonna sonora. È una cosa interessante perché non ci pensiamo mai, però la colonna sonora, in realtà, si nutre di la musica, ma anche di tutto il resto degli effetti, dei dialoghi. Cioè, è proprio la banda sonora. È strano e interessante come nel gergo, poi colonna sonora, si è diventata la musica, no? Quasi inizialmente nei film muti, infatti, era suonata al pianoforte, e poi piano piano, nel corso del tempo, la colonna sonora è diventata la musica, praticamente. Anche se, vabbè, è paradossale perché non ci pensa mai nessuno la musica, eppure questo termine non è diventato così importante. Sì, comunque, colonna sonora si intende musica, dialoghi, effetti. Molto spesso, ultimamente, tutti questi effetti, il ruolo proprio del sound designer, del sound designer in generale, è davvero importante. Sta quasi diventando la nuova musica. Cioè, la musica concreta, no? l'importanza dei suoni, nelle serie, questo viene fuori sempre. Ma anche, ad esempio, il 1917, è importantissimo questo aspetto. Sì, però mi è venuto in mente, se non sbaglio, la Baby Driver, dove c'era una sequenza in cui, con le spalle, era uno delle armi, non ponevano la musica. Quasi tutto Baby Driver è montato, è musicato, è effettato a tempo. Quindi sì. L'hai visto Baby Driver? L'ho mai visto. Recuperalo perché... Tra l'altro, se, la butto lì, magari c'è già qualcuno che lo sa perché l'ho scritto, ho fatto l'articolo, eccetera. Ma, se vi guardate Baby Driver con gli auricolari, quindi non con le casse, con il telecomitore in televisione, eccetera, ma se usate gli auricolari, vi rendete conto che quando il protagonista si toglie un auricolare, la musica che lui sente la sentite solo sul canale che lui ha tenuto nell'orecchio. Ah, ma io me l'hai raccorto che al cinema si sentiva sta cosa? Si sente meno, se la senti con gli auricolari viene fuori sta cosa ed è un tocco di classe di Edgar Wright che secondo me... Beh, è importantissimo, ma comunque il sonoro, voglio dire, nel cinema è fondamentale. Perché comunque l'immagine rimane lì piatta, no? C'è la Pasolini che diceva che alla fine il cinema è bidimensionale, o comunque tridimensionale se consideriamo anche il tempo. Cioè tu hai lo schermo, lo vedi, la musica invece esce, ti fa convibrare, cioè ti arriva proprio la frequenza e quindi comunque ti tocca, ti sposta l'attenzione, inizia a vivere dentro. Ma infatti la domanda di Alessandro Grazzi più che altro verteva sul fatto di... cioè quando e se la colonna sonora può migliorare un film che altrimenti non sarebbe niente di speciale. Ma siccome sempre. Esatto, infatti non... Ma a meno che non faccia schifo, in quel caso lo vuoi peggiorare. Beh, dal momento che siamo partiti così, adesso ci stiamo allargando da questo... Beh, certamente il sonoro ha portato sicuramente un'informazione fondamentale al cinema contemporaneo, cioè non si potrebbe pensare adesso di ritornare al cinema mutuo. Certo, però ad esempio mi viene in mente anche appunto, come si dice, anche la questione di legare una determinata musica, un determinato commento sonoro a un film e poi quando ti ricapita di riascoltare quelle canzoni o di riascoltare quei suoni, la mente ti riporta assolutamente a quelle scene del film, quindi è un legame che proprio si stringe e fa fatica poi a sciogliersi nel tempo, anche se magari la musica non è originale ma è una canzone famosa, ma nei momenti in cui tu la vedi collegata a un film, la volta dopo che l'ascolterai sarà impossibile scollegarla da quella roba, quindi... Su questa cosa vi racconto una roba brevissima, no? Quando ho avuto l'opportunità di incontrare Giuseppe Tornatore un po' di anni fa perché stavano raccogliendo la testimonianza del libro... No, scusa, scusa, te la stavi dicendo? Che cos'è questo sonoro? Quando hai incontrato... L'importanza, l'importanza del sonoro... No, 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 ho capito, ma hai incontrato... L'incontrato nel 2016 Giuseppe Tornatore... E qui c'è il sonoro nuovo, è una questione... No, in realtà è semplicemente un'abbreviazione di scusa... Ma la cosa dei trapper cos'è, una roba... No, in realtà no... È una malattia e a te, non può farne a meno... Vabbè, comunque, Giuseppe Tornatore, proprio finiamo l'intervista, insomma questa testimonianza che poi è andata nel libro, lui ricorda di quando da ragazzino è andato al cinema e per per la prima volta, no, allora c'erano i jukebox, no, c'erano i jukebox... Allora, per la prima volta la musica, ad esempio, di Per un Pugno di Dollari, ecco, questo è un esempio, lui la trovava poi nel jukebox e c'era proprio questo momento in cui lui dice, cavolo, la musica, cosa ci faceva quella musica lì? L'idea, è certo! Quella musica che lui aveva visto col papà al cinema e si era emozionato lì, aveva visto questi cowboy, no, era tutto grande e questo mondo sonoro usciva dal cinema e diventava indipendente e lo ritrovava nel jukebox sulla spiaggia, è un bel ricordo, lo dico perché... L'effetto è straniante comunque... Sì, sì, poi se ci pensiamo, questo vabbè è un discorso molto complesso che dipende anche dalla discografia, dipende da tantissimi fatti, però è stato possibile proprio anche emancipare la musica del cinema e ci restituisce un'emozione al di là del film a un certo punto, magari qualcuno non si ricorda neanche il film, però la musica, ecco, trionfa. Tra l'altro, guarda, ne approfitto in questo momento, visto che hai parlato di questo tuo percorso che hai fatto di ricerca e di approfondimento e conoscimento di quello che è Murricone come artista, come autore, eccetera, per annunciarvi una cosa, cari ascoltatori, cari omuncoli e omuncole, non so, è il nome con cui affettosiamente li appelliamo. La nostra The Best Blend, società che produce questo podcast, è lieta di annunciarvi anche che abbiamo prodotto uno special con Ennio Murricone di Alessandro, in cui Alessandro qui presente, è Ennio Murricone, fanno una lunga conversazione, una chiacchierata bellissima, approfondita e soprattutto rivelatoria di molti aspetti che Murricone di solito non rivela. Non affronta. Non affronta, ma no, soprattutto perché anche io ho avuto l'occasione, grazie a Alessandro, di conoscerlo. Personalmente all'inizio è una persona molto austera, severa, molto, diciamo, seria, mentre con Alessandro, visto che c'è un rapporto di lunga data, riesce anche a essere più sciolto, a essere più... è un po' come il nostro podcast, solo che ci sono Alessandro e Borricone. Questo special è su Audible, è stato realizzato per Audible in esclusiva, come Audible Original, quindi, insomma, è possibile da lunedì trovarlo su... tra gli Audible Original, quindi potete iscrivervi a Audible, che è il servizio di audiolibri e podcast di Amazon, tra l'altro c'è un mese gratis, quindi se volete provare il servizio, se volete ascoltare lo special. Alessandro, com'è stata questa esperienza? Questa è questa ultima delle tante esperienze con Borricone? Ma è sempre interessante, perché poi, vabbè, noi ci conosciamo tanti anni, c'è stato il libro, però poi, alla fine, Animo Borricone è una persona molto intelligente e alla fine tutti quanti noi, ognuno di noi progredisce nel tempo, comunque cambia dei punti di vista su alcuni fattori, li pensa in un altro modo, magari, quindi è sempre interessante, non è vero che si ripetono delle cose che uno ha già sentito, si sente sempre qualcosa di nuovo, perché gli anni passano e le cose si mettono in prospettiva in modo nuovo. E in questo podcast è vero che vengono fuori tanti aspetti, tanti modi di pensare alla musica, alla vita, che sinceramente, anche già per dire 3-4 anni fa, non c'erano. C'erano un punto di vista. Sì, non c'erano, erano diverse, appunto. Se uno è attivo con la sua testa, con la sua attività, ci tiene un pochino alla vita, cambia anche di opinione, no? Questo è, secondo me, molto importante. Sì, sono più di 3 ore di chiacchierata, quindi, insomma, vengono fuori tanti aspetti della sua vita, della sua musica, ma sempre, io direi, nel caso di Morricone, davvero, la musica è ciò che trionfa, ma cioè anche i fatti della vita poi si spiegano nella musica, in qualche modo. È proprio un musicista. Beh, io guarda, credo, te l'ho già detto in passato, che il lavoro che tu hai fatto in questi anni con lui è qualcosa di veramente unico che rimarrà nella storia. Cioè, nessuno è riuscito a approfondire. Ma poi ci sono non solo Morricone, ci sono tanti personaggi nella storia, comunque, dell'arte, che magari non hanno potuto godere di questo privilegio, di essere raccontati, approfonditi e avere una testimonianza lasciata ai posteri, no? Tra 20-30 anni, comunque, la sua musica rimarrà sempre, chi si vorrà avvicinare a capire da dove è venuta, come, che storia c'è dietro, che persona c'è dietro, eccetera. Se non fosse stato, sia per la biografia che hai fatto, che per lavori come questo, non sarebbe esistito, questo materiale. Quindi, sicuramente, questa, quest'opera, sia lo special, sia il libro, eccetera, hanno un'importanza che, secondo me, travalica, no? Quello che è il semplice prodotto, no? Di contenuto. Quindi, ti ringrazio a nome dell'umanità. No, guarda, io ti ringrazio. Grazie per le parole che dici. Come dice Morricone, lo dirà la storia, no? Come dice quello che rimarrà o meno. Sicuramente è stato fatto con grande amore e, tra l'altro, non tanto con la semplice idea di conservazione, no? Di un'esperienza che poi, nel corso degli anni, ovviamente, no? Tutte le esperienze siamo mortali, quindi, in un certo modo, le cose passano. Quindi, di conservare, no? Questa cosa. E proprio, credo che si è scattata, ma è già scattata nei tempi del libro, da quando abbiamo iniziato a fare un percorso di conoscenza reciproca. E questo che mi piace sempre raccontare è la relazione che porta a questi risultati e nella relazione uno deve imparare ad ascoltare l'altro, a ripensarsi, a far ripensare l'altro. E qui c'è questo confronto continuo e c'è questo ripensamento anche della vita. Non è solo un conservare, semplicemente. È veramente un fare, come costruire insieme. Questo è successo, è successo, lo posso dire, ma lo dice anche Morricone a più riprese anche nei libri, in altre interviste che ha fatto. Quindi, lo dico a nome di tutti e due, diciamo, non lo dovrei dire io, ma credo che trapevi questo poi, alla fine, in chi ascolta, in chi legge, insomma, eccetera. Sono contento di questo risultato, insomma, ecco, molto fortunato e grato di questa esperienza. Io sono contento, grato e fortunato di aver potuto collaborare alla realizzazione di questo special che si chiama Io e Ennio Morricone, che trovate appunto su Audible. Potete scaricare l'app su Google Play o App Store, insomma, è facilissimo. Scusate, è terminato il momento serio, perché c'ho una cosa qua in gola da dire. Ti stai commuovendo? Ma la smettete di farvi i pompini a vicenda, per favore. Mamma mia, oh. Sì, siete bravi, ok, l'abbiamo capito. Pensavo di restituire qualcosa. Ma anche a lui non ne era affatto nessuno. Esatto. Io sei bravissimo anche tu, cioè, nel senso... Bastardi. Facendo... Siete delle merde. Facendo un grandissimo lavoro. Vaffanculo. Ma chiudiamo con l'ultima delle domande, adesso poi passiamo agli Oscar, eh. Ok, io però lascerei il cliffhanger agli omuncoli, alle donnuncole di Instagram, è la domanda più figa e quindi, ragazzi, dovete ascoltare il podcast, quindi noi, con i nostri amici del podcast... Basta con queste live. Infatti, adesso li saluto. Dai, ciao ragazzi. Alla prossima, ragazzi. La domanda è... La domanda è... Bellissima questa domanda. Qual è... No, questa l'avevo già fatta. Come si fa a capire quando finisce un atto e ne inizia un altro? E la domanda ce la fa l'esimio nonno Pino. Cioè, quando si guarda un film, come si fa a riconoscere la divisione in atti? Sì, io ne parlo spesso. Sì, vabbè, ma... Questo film è in tre atti, parlo di cinque atti, i film americani per lo più sono in tre atti. Allora, pensiamo... Allora, come si fa in atti?